Ok ragazzi siamo qui col solito video lunghissimo in cui riassumo tutte le nostre partite della championship su Brawl Stars Questa volta ovviamente parliamo della Brawl Stars Championship di aprile Questa intro la sto facendo quando in realtà abbiamo già finito di fare le partite e sto già editando il video tra l'altro E si ovviamente come avrete già letto dal titolo e visto dalla miniatura quindi non vi sto spoilerando nulla l'abbiamo vinta Ringrazio come al solito SubZero che ci ha carriati a me e a Serena Come al solito di questi episodi sarà un video abbastanza silenzioso dove più che altro proviamo a concentrarci Ma ovviamente l'intrattenimento non manca anche perché ci sono stati svariati bug ragazzi Quella la championship di aprile è stata parecchio parecchio buggata Detto questo vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale se non questo è fatto siamo sempre più vicini agli 800.000 iscritti E soprattutto utilizzate il mio codice creatore Gigi nello shop di Brawl Stars e anche in tutti gli altri giochi Supercell Per me è tutto vi lascio al video buona visione Ok Oh che bello ho tutte le scritte buggate Oh no Venga qui signor corvo Ok No io pure vedo buggati i cespugli che hai giocato in alto li vedo neri Dai quello si è un bug Come se fossero bruciati Come se fossero bruciati Ah ok Devevo chi potrebbe riavviare il gioco Un bug che c'è nella championship Ah ok Non era buggato Non lo stavo Vedi li vedo neri Ho chiusato a non chiuderti qua Se chiude dentro gli avversari Vabbè io la torretta la gioco qua Perché tanto le lane non ci sta bene nessuno Ok Uh il signor colta si è arrabbiato Ah non capisco quanta vita abbiano le persone Ok Comunque mamma mia Bloccandogli lì al centro è Madonna Ma te l'ho detta Ok Ok Allora penso che la prima sia andata eh Penso Ma mo' coltani fa la giocata della vita Però penso sia andata Ok quindi se riavvio il gioco si si sbagga Sì Allora riavvio un attimino Uh adesso ci abbiamo un lanciatore contro niente Anche se li blocchiamo lì fuori Anche Mr.P Sì però Mr.P magari non arriva fino a lì giù Anche qui signor Mr.P Non le faccio nulla Dove l'altro? Eh infatti mi sto Provo ad andare su Ah no stava fermo in base Il Sandy stava fermo in base Ah ecco 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 Si è sbaggato È vero si è sbaggato Adesso vedo tutto normale Uff Da no Prova ad apprendermi eh Oh levita Io sto laggando Ottimo Allora Dobbiamo stare attenti Solo Adesso se il Dynamite Dovesse ricaricato da ulti Mi fa un'azione Incredibilmente Incredibile Poi si sbloccano Pure i gadget Giusto Pure se non li hai Sì Ok quindi comunque C'è pure il gadget di Di Tara comunque Consigli che si mette un occhio Sì ma non serve No no lo so che non serve Però era per sapere Neanch'io sto non usando Quello di Di Pam L'ho usata adesso Perché mi pareva brutto Non usarlo mai Ho mangiato un cesto di mietti Brava Brava No adesso vedo io il primo Buggato Lo vedo tutto nero Vedo il primo tutto nero Ma no Ci morirò per provare a vedere Il tuo il primo Eccolo Ma lo vedi anche Oddio No regà ma è una figata E anche lo spawn delle gemme nero Ah sì è vero 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 Anche lo spawn delle gemme Lol Oddio che bug strano No quello è il primo Non è morto Guarda come è entrato nel pane Sì povero pocio Chiuso il tesoro Che mi diventa trollare così Questo sta dando Di cazzo Sì tra l'altro Pietro Saludone a Pietro No Mi è bloccato fuori Mi è bloccato Cattiva Mi è bloccato fuori Allora Nel primo Che aveva due gemme Ed era morto Oddio guarda che strano È tipo grigio Quando c'ha Quando sta rinascendo E c'ha la bolla Dell'immortalità Ok Ecco lì Ha anche il pocetto La Shelly Madonna raga Mi triggera troppo Nel primo Però Ok Chiusi fuori Non si può entrare Ragazzi Mi dispiace No c'è la dosetta Nel primo Ci provo Sempre a scazzottarlo Dice Magari prima o poi Si rompe Ok raga Allora Abbiamo fatto Infatti Lo vedo anche nero lì Lol Ok raga Prima fase Delle gemme fatte Ecco lì I nostri Bei punti stellari Adesso Andiamo In Foot Brawl Semino a sinistra Bull Bull Frank E un'altra Ems Anche con l'Ems E nero No io invece adesso Vedo tutto normale Mamma mia Ieri Quanto ho trovato In una Poi non c'è Ah c'è Ancora il simbolo Del Paris Saint Germain Sulla mappa Com'è? Sarà un bancho Non ci ho fatto caso No ma in realtà Non Quando Si gioca normale In ladder Non si rilassi Allora Allora Il frencolo Nooo Speravo spaccarsi un po' di più Cavolo ha fatto Hai usato il gadget E ma cavolo Evo Pensava la pushassi Magari No Ripo Pensavo di riuscire A superarlo Ok 1-0 Mamma mia Eole La prima E' andata Mortis Jackie E Ferrari Proprio lui Attenzione Ok Qualche aggetto L'ho dovuto usare Ma Madonna Mamma mia Che difesa Madonna Che difesa Ma quante piante Sono spawnate Ce ne sono spawnate Tantissime Oddio Ha coperto Qualsiasi cosa Proprio Ok Alla tu non puoi passare Sì 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 Ok Madonna mia Jackie Usa la rallenta Sì Ok 1-0 Stavolta Signor Mortis Caro Sono ripartiti Ho chiuso la Dal Mortis Io C'ho quasi La ulticarica Ok No Non è servita No 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 Ok Perfetto E anche la seconda Di Ball È andata Uh BB Jessie Nita Ma Ma Più che altro La cosa rotta Di semino È il discorso Che quando Non hitta Nessuno Ed esplode Fa un danno A un raggio Troppo ampio Non è quello lì Dovrebbe Questa cosa Dovrebbero Ne fare Sì La star power La star power È veramente forte Sì Anche la star power Sì Ah che poi È la star power Che lo fa esplode Giusto Sì esattamente Ah infatti Sì 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 Oddio stosa Me l'avevo dimenticata È vero No no BB pure rallentata Comunque ormai Piotta Easy E quindi Anche footbrawl È andato Ottimo No Vedo il primo Cos'è quello Ah primo Sì Del primo nero Di nuovo Ma solo Nel primo Vedo Buggato Io Io anche Hems Davvero Sì Tu prima Anche Hems E tocca Statentiera Rosa Qui Ok Direi che L'abbiamo Leggermente Chiusi Sì 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 L'ho preso Con la L'ho preso Con la L'ho preso Con la L'ho preso Ne ho visto Dai dai Sono bloccato Giusto Con l'immortalità Sono Un mattino Riusciti Dove vai Rosa Eccolo Il salto Dell'Aquila Ok Tap gameplay Vai Potenziamolo Super No Hai bloccato La torretta Adesso Che succede Con la torretta Sì 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 No però Sono curioso Sapere Che succede Guarda Non lo spawna Non lo spawna Ah sì L'ha spawna Sotto Tipo Hai spawna Sotto Ed è uscito Sotto Sotto La pianta Oddio Quack Che era Verso L'Aquila Quack Ok Fatto Poi Del primo Easy Giochiamo La torretta Non ci facciamo Non ci facciamo Mancare Niente Ah non L'ho letto Si chiama Maria Con 3000 I E altre Tutte Le vocali Le vocali Vocali Va bene Ok Dai Diciamo 37 8 È stata parecchio Combattuta Devo dire È sempre Perché mi ha Pushato la rosa Cosa rosa Vabbè In sta mappa Ci sta Ok In sta partita Nessun Buggato Sono quasi Dispiaciuto Non ci siano Buggati No Attenzione Un leon Travestito Danita Io Provo Ne Provo Provo Provar A prendere La stella Ok Forza Forza Forze Voglio usare Il gadget No Me l'ha Rispinto Vai 3000 Di vita Esatto Guarda Guarda Sta Sta Facendo Non lo so Sta inquietendo Terrore A tutti Incutendo Lo so Sono impegnato A giocare Per favore Non sono facilitato Come te Che usi I brawler Sbroccati Come Semino Sbloccati Sbroccati 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 No Ho detto Sbroccati Sbloccati Non è vero Nur Sultan Va a prendersi Con la forza Le sue Prete No Qui L'anita Poteva Uccidermi Non l'ha Sfruttato No Mi ha Ucciso No Mannaggia Sab Dai 36 a 9 Però Non è prima Io Quell'ultimo colpetto Non ci credo Dai facciamo Il salto dell'aquila No dai Eh niente Mannaggia Mi hai rubato La chiave Eh ho visto Il salto dell'aquila Ho detto No Guarda Non so dove Andare No Sono morto Anch'io Ok Anche Quest'altra Di ricercati È andata Ah è vero Non bloccavi lì Allora No ma di nuovo Il primo Ma me lo sta facendo Apposta A farmi trovare Tutti questi Il primo Buggati Allora Tra l'altro Contro c'è il signor Boh Che quindi ci può Vedere da un momento All'altro Oh mio dio Guarda Jackie Hai capito Jackie No 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 Di nuovo Eh vabbè Però basta Jackie Eh vabbè Prima o poi Li finirai Piattamente Non metteteli Troppo vicino Eh sì Spacco Sì 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 Vai 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 Ma no no Che la Jackie È lì È lì giù Ok L'ho aspettando Dietro i muretti Ho avvitato Due volte Il bo Vado a giocare Nuovamente La torretta Ok Oh Ora abbiamo Ristabilito Chi è che comanda Guardalo Guardalo lì Il mio pinguinetto No Ah ok Rimaneva 22 di vita Mannaggia eh Mannaggia eh No 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 Di nuovo il gadget Di nuovo il gadget Aiuto 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 Jackie Modalità trattore Esatto No vabbè da Guarda Serena Come stilla Le kill Vai Trasformati Modalità Hulk Ok 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 Il verso dell'aquila proprio Oggi impariamo i versi con Sab Come fa il cane Sab Dai vediamolo Aspetta No no Lascerlo Lascerlo No 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 Voglio fare il toro Come vuoi fare il toro Eh volevo Volevo tipo Saltarli Il cane fa miau secondo me Vabbè comunque Rapina nostra Mappa l'odio Allora Contro Non ho visto gli avversari Effettivamente Ok Bombardino Pam e nida Eh a me invece si è messo Bombardino Che non mi sta facendo muovere Sì sì Basta che te lo tieni Noi Noi metterlo leggermente Più avanti Così riesci a hittare Sia la cassa Che lo Eh sì Però Eh vabbè niente Sta prendendo terreno L'infamotto Ok Almeno non c'è andato Nella cassa Vabbè Vabbè Arrivare via No ma pure la nida Eh mi è arrivata pure la nida Di qua Eh la miseria Si è messa qui Con la torretta Guarda il danno Che ha fatto Ok No devi metterlo più avanti Perché sennò Eh perché da qui li avevo bloccate tutte e due Perché prima mi ha fatto il giro Perché sennò Riusci a tenerli basta Devi andare a bloccarli molto più avanti Esatto Esatto lì Ok Fatto fuori Nooo L'avevo fatto fuori Un'altra volta che sono ripartito Niente Però c'è il pinguinetto sotto torre Mamma mia Ecco vedi Devi rimanere lì a far danno Vai binguinetto ulk Ok Ok Eh così sereno Vai binguinetto ulk Di nuovo Penso sia andata a questo punto Si Ok raga Cambio strategico No ma adesso la vedo anch'io la Ems nera Con solo gli occhi e i denti Lol Comunque dicevo Cambio strategico Mr. P Non mi son trovato troppissimo Telx Ok L'ho hittato un sacco E' ancora vivo l'Ems? No 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 Era morta Fatti sta rinata Eh si Si era messa sulla mia lei Non ci voleva Anziché il bonnetto Che pizza Mi si è fatto uccidere con un po' il vetto No è riuscito a ditarmi No 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 Signorina Anita Stia buona Stia buona Signorina Anita Numitti Ok Io continuo a far danno Eh quanto è comoda L'abilità stellare Il bombardino E si ricura No ho sprecato la ulti Mi sono sbagliato Non volevo utilizzare la ulti Madonna mia Semino Comunque Pun' in sta mappa Il Semino Non l'ho rotto ovunque Direi che Vada depotenziato Leggermente Semino Ma va bene così Eccola l'Ems No Lol Dopo rapina Che c'è A serio? Si Ok Udana macco No No Berry qui Eh lo so Io l'ho sempre Izzato Ma Ipperotti E dai Ma c'ho pure la ultima Ma No Ah c'hanno pure il boh rompiscato E io gli gioco No Dai rallentalo Ok Allora qui siamo chiamati A recuperare una partita Mie signori Ce la faranno i nostri eroi A recuperare questa partita Che sembra ormai persa No Mi volevo mettere dietro il muro Non ho fatto in tempo Mi sono impicciato Ok Sonderbole Mi prende questi danni Io ho ricaricato anche la ulti La vado a giocare un attimino Qui E niente Mi ha impusciato Maledetto Maledetto Bella quella ulti Di Di Ma cacchio si chiama Barilotto Ok No Il bombone di Dana Mike Un po' sfuggire il segno Con tutte le frecce Con tutte le frecce Sto dannatissimo No 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 Eh guarda Dana Mike Sto bloccando Questa partita non mi piace Questa partita non mi piace Dai 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 L'ultimo push Ce la faranno i nostri eroi Con l'ultimo push Eh no Dana Mike Maledetto Eh Barry l'ha andato Su la torre Ok ragazzi Dopo La pessima prestazione Perché prima C'è un piccolo cambio Come si chiama Nando 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 Che fai Nando Ah ragazzi ovviamente Nessuno capirà questa cosa Del perché ci siamo messi a ridere Ma Io ogni tanto Non so perché Dico Nando A caso Chi mi conosce lo sa Chi non mi conosce Non lo sa Ok Mamma mia La Ems Mamma mia La Ems Fatti danni Fatti danni Si 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 Robertino si è reso Non lo so Ma noi Ce la siamo portata A casa E adesso Andiamo Dritti dritti In assedio Ok ragazzi Abbiamo nuovamente Ems contro Tutta nera Noi andiamo Koji Questa penso È la mappa Che odio di più Di 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 assedio No L'ho lisciata Eh l'ho uccisa Ma è rimasta La Ems L'ho ritata Ma Ok 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 No Con 300 di vita Mentre l'ho grabata Ha recuperato vita Non ci credo Non ci credo Mannaggia La Ems Era un bullone In più Per noi Ok Questo è il mortaio Quella Sì Le mie C'è spuri Ok Mamma mia Quella Ems È incavolata Nera Niente Di nuovo Stabart Ok Sperotti Ok Almeno abbiamo ucciso Pure la Ems Io Volevo provare a spaccare Lì C'è spuglio Lì Quindi ho continuato A ritare Sì sì Hai fatto bene Hai fatto bene Aia Ok Ultimo robottone nostro Credo sia andata Dai Devo riuscire a fare No È morta L'ha uccisa il robottone La volevo grabare Volevo fare quello Che non è riuscito a fare prima Vabbè Mi sembrava strana Come mi stesse Blascando Per il mio uso E' improprio Dio Tra l'altro Tutte rosa Ci abbiamo contro Pure prima Ce n'erano 2000 Dio che le hai messi strane Che si può L'ho detto Lei mi sa Sì Le hai usa tutte e due Ok Dimmi che Ok No La Penny Non l'avevo vista Penny è morta Dovete difendere Sto arrivando Lì c'è Lì c'è Ah c'è pure la rosa Rip Beh Ok Allora, abbiamo il robottone E per il turno dopo Abbiamo gli stessi Pulloni, non ci può stare Trova indietro, Sereno A meno che la chiudiamo Ok Ok Ma le hai detto un genio che non sei altro Terrorismo psicologico Ma chi me grabbi con 87 di vita? Ma che fai? No, ma In realtà ho provato a coprirmi Ma non ce l'ho fatta Ok E questa è andata pure Poi ci manca l'ultima Oh, io prima che finisce qua Voglio spacchiare quei muri Ogni volta non c'è nessuno perché si allontanano La prima volta l'ho pure lisciati E niente, vabbè Ho sempre rosa Stavolta Bo e Dana Quindi occhio che c'è un altro lanciatore Mi romperà i gespugli Non c'è nessuno quindi Non e Non c'è nessuno Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, si era un po' facile questa volta perchè stava proprio fermo quel boh, però ce l'ho fatta Era una questione di vita di morte ormai, ormai si, ormai si, per me si No, cattivo No, mi ha fatto il gadget, mi ha usato la ulti, ho fatto 3000 cose che non volevo fare Prima ha fatto l'attacco e volevo fare il gadget, poi ho fatto il gadget, ma per premere troppe volte mi ha fatto cura 1 Madonna, i 3 pulsanti qui sono troppo problematici Ok, lo sono morto Ah, stavo di, perchè 3 a 0? Perché avevamo richiamato il secondo robottone Eh, vedi, quella strada lì spianata è tutta un'altra storia E ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta nuovamente Assolutamente non carriati da Sub-Zero Nooo Assolutamente Eccolo lì La notifichina, andiamo a cliccare Il solito messaggio Eliminatori online sbloccate Ed eccolo qui ragazzi Ce l'abbiamo fatta La notifichina La notifichina